Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale TV City. In apertura l'emergenza sanitaria col governo Draghi già a lavoro sul nuovo DPCM. Quasi certa la proroga allo stop fra gli spostamenti fra le regioni. Lungo approfondimento invece col sindaco di Ercolano, Sciro Bonaiuto, sull'emergenza epidemiologica nella sua città. E invece sono arrivati una nuova dose di vaccini in Campania, scortati alla finanza nel presidio ospedaliero di Pollena Trocchia. Cronaca cittadina ora con una madre violentemente aggredita dal figlio a Torre del Greco. La Guardia di Finanza invece continua i controlli sul territorio per il rispetto delle misure anticontagio. Migliaia di persone firmate solo nel weekend. E sempre la Guardia di Finanza ha sequestrato un'impresa idilea da Fragola per reati economici e finanziari. In conclusione, la crisi nera della Turis che subisce una pesante sconfitta contro la Paganese. Sconfitta che causa l'esonero del mister Fabiano. Questo è altro nei nostri servizi. Governo al lavoro sul nuovo decreto legge contro il Covid. In discussione sarà la proroga di 30 giorni del divieto di spostamento tra regioni, che scade il 25 febbraio. È certo che lo stop alla mobilità anche tra zone gialle sarà prorogata fino al 27 marzo. Sarà confermata anche la possibilità di fare visita ad amici e parenti, ossia la regola per ora valida fino al 5 marzo, che consente di spostarsi verso un'altra abitazione privata massimo in due persone, più i figli minori di 14 anni. Lo stesso decreto dovrebbe comprendere anche ristori tempestivi a qualsiasi livello per le categorie penalizzate dalle chiusure sia nazionali che locali. È necessario un preavviso congulo che il Governo deve dare per ogni provvedimento adottato per evitare il caos. L'ipotesi che circola è che il monitoraggio venga effettuato a inizio settimana e non venerdì per non far arrivare la decisione sui colori delle zone troppo a ridosso del weekend. Le regioni chiedono poi di accelerare decisamente nella campagna vaccinale, reperendo le dosi necessarie e collegando il problema ai criteri che hanno regolato finora i colori. In primis, l'inesorabile RT, l'indice di trasmissibilità, si ritiene indispensabile procedere ad una revisione dei parametri e alla contestuale revisione del sistema delle zone, nel senso della semplificazione, che passi funzionalmente anche da una revisione dei protocolli per la regolazione delle riaperture, in senso anche più stringente, laddove necessario. Occorre in questa fase un cambio di passo che consenta di coniugare le misure di sicurezza sanitaria con la ripresa economica e delle attività culturali e sociali. Dello stesso avviso anche i sindaci italiani, che tramite ANCI hanno chiesto al Governo di implementare il piano vaccinale, cambiare i parametri e gli indici per il lockdown e soprattutto consentire l'apertura serale dei ristoranti, a condizione del rispetto di protocolli rigidi. La consumazione al tavolo assicura condizioni di sicurezza maggiori rispetto agli assembramenti che purtroppo si creano fuori dai locali che fanno il servizio d'asporto e le bevande, soprattutto con l'arrivo della bella stagione. Emergenza Covid ad Ercolano. Lungo approfondimento, con il sindaco Ciro Bonaiuto. Il rapporto tra guariti e nuovi contagiati è un rapporto che rimane sempre vicino allo zero. Quindi noi abbiamo un numero di contagiati alto, siamo intorno ai 500. Perché non do il numero preciso? Perché nelle relazioni che l'ASR ci invia quotidianamente ci sono almeno un po' di centinaia di nomi che sono lì da mesi. Quindi è probabile che ufficialmente il numero è di 500, ma realmente parte di questi centinaia di nomi siano guariti. Quindi noi non abbiamo in questo momento un numero preciso di contagiati. Ma credo che non serva un numero preciso di contagiati. Noi per gestire al meglio questa emergenza dobbiamo andare a fare delle verifiche realtà per realtà. Ad esempio le scuole. All'interno delle scuole noi non possiamo incidere con lo stesso criterio ovunque. Ci sono alcune scuole dove la situazione è critica, dove purtroppo mancano gli insegnanti perché sono in quarantena e altre realtà scolastiche dove c'è maggiore serenità. Quindi dobbiamo uscire dal paradigma che il numero complessivo dei contagiati determina la reale pericolosità. Noi dobbiamo andare a verificare zona per zona, realtà per realtà, quali sono i rischi. Le faccio un esempio. Tanti giovani intorno ad un barra, intorno ad un motorino, intorno ad un rinca rappresentano un pericolo reale perché sono spesso senza mascherina e sono incuranti del pericolo che c'è. Però all'interno della scuola se si riesce a garantire il distanziamento e se c'è una gestione abbastanza serena, perché chiuderla? Quindi penso che a Del Colano stiamo facendo un buon lavoro. Abbiamo alcune scuole dove è stata avviata la didattica a distanza, altre realtà invece non manifestano particolari criticità. Ci ho detto, dobbiamo stare attenti, siamo zona arancione e quindi dobbiamo evitare di uscire, uscire se non è strettamente necessario. Attenzione del primo cittadino sulle scuole e le attività culturali, profondamente colpite dalla crisi. Il sindaco deve fare una valutazione che è diversa rispetto al comitato scientifico. Sarebbe troppo facile dire, poiché c'è pericolo, poiché la curva si sta realzando, chiudiamo tutto. La nostra economia si basa sui bed and breakfast, si basa sulla riapertura del parco archeologico, sulla riapertura del Vesuvio, si basa sui tanti ristoranti, tanti bar, le tante realtà commerciali che si sono aperte intorno al turismo, cioè sfruttando quello che è l'indotto dei turisti. Io quindi credo che noi, soprattutto in una città come Ercolano, ma credo in tutto il mezzogiorno, dobbiamo iniziare a pensare in prospettiva futura, ovvero con questa pandemia ormai purtroppo ci siamo abituati a convivere, ma noi dobbiamo fare tutto il possibile per tenere aperti i luoghi di cultura, quindi le scuole, quindi i teatri, quindi i musei, il parco archeologico, il Gran Cono del Vesuvio, perché soltanto se noi creiamo intorno al turismo un indotto culturale, un indotto economico, riusciremo a sconfiggere la criminalità organizzata. Altrimenti questa pandemia, con la crisi sociale che ne determina, sarà nient'altro che terreno fertile per l'usura e per la criminalità organizzata. Nuovo lotto di vaccini in Campania. Sembra ripartire, anche se a rilento, la campagna di vaccinazione anche per la nostra regione. Questa mattina un nuovo carico di vaccini è arrivato all'aeroporto di Capodichino, ed è stato trasportato, scortato come al solito dei militari della Guardia di Finanza, presso il presidio ospedaliero di Pollena Trocchia. Una speranza per la ripartenza nel breve termine delle vaccinazioni su tutto il territorio. Madre aggredita e minacciata dal figlio. Paura nella serata ieri a Torre del Greco. Urla di terrore hanno allertato i residenti di via Ignazio Sorrentino. Immediatamente sono stati avvisati gli agenti del commissariato di Torre del Greco. Intervenuti sul posto sono stati presto raggiunti da una donna, profondamente scossa. La signora ha chiesto aiuto raccontando di essere vittima di comportamenti violenti da parte del figlio, che più volte l'avrebbe violentamente aggredita per futili motivi. Gli agenti hanno trovato e bloccato l'uomo, un 38enne o plontino, ancora nell'appartamento della madre, arrestandolo sul posto per maltrattamenti in famiglia. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche questo fine settimana, nel delicato passaggio della campagna da zona gialla a zona arancione, il dispositivo dei controlli volti a verificare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus. In totale tra venerdì e domenica scorsi sono state controllate tra il capologo e la provincia 1.587 persone e 216 attività commerciali, complessivamente 83 le sanzioni irrogate, comprese quelle relative a situazioni illecite e tipicamente di interesse delle fiamme gialle. Il potenziamento dei controlli è riguardato soprattutto Napoli. Più in dettaglio il gruppo pronto impiego, anche con pattuglie piedate, oltre ad evitare assembramenti, ha sanzionato sul lungomare cittadini sprovvisti di mascherina, mentre la stazione metropolitana di Piscinola, a piazza Cavour, a piazza Bellini e nel quartiere Ponticelli, ha sequestrato diversi grammi di ascice e cocaina. Il secondo gruppo, all'esterno dell'area portuale, ha sorpreso in piena notte in via Marina e via Cristoforo Colombo 27 persone, tra cui un minore, provenienti dalle città della provincia, che erano state a Mercellina e in altre aree della Movida a trascorrere il sabato. Tutte sanzionate, tre di esse erano recidive. La compagnia di Torre del Greco ha denunciato per minaccia pubblico ufficiale, oltre che sanzionato per violazione anti-Covid, un 54enne irriducibile negazionista, trovato sulla via litorale senza dispositivo individuale di protezione. La compagnia di Giuliano in campagna, al termine di un pedinamento, ha tratto in arresto a Mugnano di Napoli un 51enne, sequestrando in un box della sua disponibilità quasi 23 kg di sigarette di contrabbando. La compagnia di Castellamare di Stabia ha accertato che presso l'Internet Point veniva svolta attività di raccolta a scommesse senza licenza di pubblica sicurezza e senza l'esposizione della tabella dei giochi proibiti, denunciato un responsabile che è stato sanzionato anche per il formarsi di assembramenti con la sanzione accessoria della chiusura per cinque giorni. Infine il gruppo pronto impiego Napoli si è reso protagonista anche di un episodio concluso sia a lieto fine. Infatti, mentre una pattuglia di baschi verdi transitava in piazza Trieste Trento, è stata avertata da una giovane che aveva perso in via Chiaia il proprio figlio di 7 anni. I finanzieri hanno immediatamente avviato le ricerche Il piccolo è stato quindi riconsegnato ai genitori nel frattempo avvisati tramite sala operativa del Comando Provinciale della Guardia di Finanza in meno di un'ora e mezza. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito di un'articolata attività d'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di una società di Afragola, Napoli, operante nel settore edile e dei suoi amministratori e o titolari di fatto, per dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti o messa dichiarazione. La misura cautelare scaturisce da una complessa indagine di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria svolta dai finanzieri del gruppo di fratta maggiore nel cui ambito è emerso un vorticoso giro di false fatturazioni per una montata di oltre 2 milioni di euro. In particolare il reale amministratore della società per dissimulare le proprie responsabilità nella gestione dell'impresa si era servito di un prestanome al quale aveva affidato la formale carica di rappresentante legale occultando le scritture contabili per percudere all'amministrazione finanziaria la possibilità di ricostruirne gli atti di gestione e il debito tributario. Inoltre l'imprenditore nel tentativo di sottrarsi ad eventuali provvedimenti di sequestro aveva cercato di spogliarsi dei beni simulando una donazione del patrimonio immobiliare ai propri familiari mantenendone tuttavia la piena disponibilità. Al termine delle indagini sono state sottoposte a sequestro tra Afragola e Casoria, Napoli in esecuzione del provvedimento del jeep, beni immobili, quote societari e disponibilità liquide per un valore di oltre 870.000 euro. Crisi nera per la Turris che esce sconfitta anche dallo stadio Marcello Torre con il risultato di 2-0 in favore della Paganese, una prova che mostra nuovamente le fragilità di una squadra che ormai da settimane non riesce più ad incidere. I Corallini non sono mai stati concretamente in campo, lasciando spazio ai padroni di casa che ne approfittano, castigando la squadra di Torre del Greco. Prima la rete di Diop al 35esimo che spedisce in rete di testa sui sviluppi di un calcio di punizione di squillace. Nessuna reazione da parte della Turris che sprofonda in occasione della seconda rete degli avversari siglata da guadagni su punizione, complice o non impeccabile a bagnale. La Paganese gestisce facendo i nervosi dei Corallini che per la terza volta di fila chiudono il match in dieci con l'espulsione di Dinunzio. Prestazione più che insufficiente che porta all'esonero del tecnico Franco Fabiano, comunicato ieri dalla società attraverso un comunicato stampa. Oggi si conoscerà il nome del suo erede, per il quale si fa sempre più insistente il nome di Bruno Caneo. Il tecnico classe 57, reduce dall'esperienza con i Rieti e che può vantare trascorsi da allenatore in seconda di Giambiero Casperini ai tempi del Genoa, prenderà molto probabilmente il timone di una squadra di Savia in toto. A partire dal prossimo match, in programma Ligori contro la Casertana, comincerà sostanzialmente un'altra stagione per la Turris, chiamata ad una scossa per raggiungere il traguardo della salvezza. I Corallini sono ancora padroni del loro destino, ma serve quanto prima un cambio di passo per non compromettere la situazione. Grazie per la cortesa attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione-tvcity.it o al numero di telefono 340-6561-484. E con questo è veramente tutto, io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi. Grazie a tutti.